La città di Giulianova è quella che mi sono passato più volte nella mia vita. Avendo delle fidanzate ad Ascoli, a Teramo e anche in piccoli paesi, passavo da Giulianova, raccoltevo le forze e salivo. Ho lasciato un'eredità anche al sindaco, che è un formidabile interprete di questa visione, come appartenente al movimento PSE, pronto soccorso erotico. Se avete necessità e trubamenti, chiamate il sindaco come pronto soccorso, il 118 arriva e vi benedice, perché possiate salire al cielo più felice. Perché quello che non manca a Teramo è la gnocca. Grazie, vi aspettiamo.